Dopo l'avvio dell'ITER che potrebbe portarlo alla decadenza, per il direttore generale dell'ASP di Messina Paolo Lapaglia, nel pomeriggio è arrivata la sospensione dall'esercizio delle funzioni per i prossimi 60 giorni. Le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario Bernardo Alagna. A firmare il provvedimento di sospensione è stato lo stesso assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Sarà facoltà dell'assessore nominare con un altro provvedimento un commissario ad acta per tutta la durata della sospensione e in caso di decadenza al termine di questa fase un commissario straordinario. Ricordiamo che nella giornata di oggi il presidente Musumece ha avviato il procedimento di decadenza di Paolo Lapaglia dalla carica di direttore generale dell'ASP di Messina. Il provvedimento fa seguito alla relazione della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid nella provincia peloritana, seguita alle verifiche effettuate. Rilevanti criticità nella gestione dell'emergenza Covid nel Messinese è questo il motivo alla base della svolta ormai prossima nella sanità. Ai fini del contraddittorio però il manager adesso potrà esercitare il diritto di accesso agli atti e depositare controdeduzioni e osservazioni nel termine massimo di 30 giorni.